Stava eseguendo dei lavori di manutenzione al manto stradale, quando improvvisamente è stato travolto da un mezzo pesante. Tragedia la notte scorsa sull'autostrada Acqua-Torvici-Bologna-Taranto nel tratto compreso tra Foggia e San Severo in direzione Bari. Un operaio di 37 anni, originario di Afragola in provincia di Napoli, è morto dopo essere stato investito da un tir in transito. L'incidente è avvenuto intorno alle 2, all'altezza del chilometro 548. In base alle informazioni emerse, la vittima stava eseguendo delle opere di manutenzione messe in sicurezza del manto stradale per conto di un'azienda appaltatrice pugliese. Il camion che lo ha travolto stava percorrendo la carreggiata sud. Ancora tutte da chiarire le circostanze che hanno portato alla tragedia, tra le ipotesi quella dell'incidente causato dalla scarsa visibilità notturna. Sul posto sono giunti gli operatori del 118 che hanno provato a prestare i primi soccorsi all'operaio, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Oltre ai sanitari sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale che hanno eseguito i rilievi del caso e il personale della direzione ottavo tronco di Bari, di Autostrada per l'Italia. Sul tratto interessato dall'incidente in direzione Bari, per diverse ore le auto sono state fatte circolare su una sola corsia, ma a quanto si appreso non si sono registrati particolari disagi o interruzioni del traffico. La strada è stata completamente riaperta solo intorno alle 7.30 di questa mattina.